La disoccupazione in Italia è a livelli record, a certificarlo l'Istat, che attesta la media nazionale al 12,5%. In Molise è invece superiore di 3,6 punti percentuale al 15,8. Dati in crescita e nella nostra regione lo scorso anno 19.000 le persone in cerca di lavoro, 4.000 in più rispetto al 2012. 7.000 le donne, 11.000 gli uomini. Sempre in Molise 99.000 gli occupati nel 2013, 8.000 in meno rispetto all'anno precedente. La maggior parte nei servizi 66.000, 8.000 in agricoltura. La crisi si fa sentire con aziende sempre più in difficoltà diverse che chiudono e si registra un aumento delle vertenze sindacali. A livello provinciale il tasso di disoccupazione è al 16,5% in quella di Campobasso, 14.000 in cerca di lavoro, mentre in provincia di Sernia è al 13,8.000, 4.000 alla ricerca di un posto. Intanto la Camera di Commercio di Campobasso, per sostenere e incrementare l'occupazione sul territorio, ha concesso incentivi a tutte le imprese che hanno presentato domanda per l'iniziativa Servizi Integrati per la Nuova Imprenditorialità e il sostegno all'occupazione dell'accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e Unione Camere. In tale ambito, ha spiegato il presidente Amodio De Angelis, sono stati erogati contributi alle aziende per oltre 82.000 euro. I problemi comunque ci sono e sono ben evidenti e la crisi è marcata. I lavoratori chiedono politiche concrete di rilancio, fatti e non proclami e promesse. La responsabilità delle istituzioni è grande e gravosa e di questo ne devono essere consapevoli, perché chi soffre oggi, chi non ha occupazione o ne ha una che è in bilico, non è sicuramente abituato agli stipendi certi e faraonici della casta politica. Il Molise in particolare è a un bivio o inverte la rotta, promuovendo politiche attive per il lavoro o muore.